Cari amici di Calabria Foodporn, bentornati nelle ricette amatoriali del canale. Oggi vi presento una ricetta ricca di tradizione. È una ricetta povera che viene preparata soprattutto nel periodo invernale, dove si deve impastare rigorosamente a mano. Stiamo parlando delle lagane e ceci, dove ovviamente non mancherà l'alloro e il peperoncino. Vi ricordo che essendo una ricetta amatoriale vi lascio tutta la descrizione qua giù e per qualsiasi feedback lasciatevi un commento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.